Subisce il gol e comincia Il scontro Ovviamente senza spargimento Difficio di fortuna È una goduria unica È un ramanico grandissimo L'occhiale ha il suo perché L'occhiale Tento così anche Belle ma sono anche intelligenti Mario Giordano e Chiambresità è stata una partita Non so se sia vero ma ammettiamo che Sono mica tanto normale Ieri sera Telese Quindi la Roma io penso di poter Dopodiché il tasto Sufficio l'ho diffusato La lezione è brevissima Vai, brevissima Piuttosto che il Manchester con il Bayern Insomma tutti questi ultimi minuti No? Partita finisce Se vuoi Non è che l'abbiamo fatta pubblicità Stagionato anche a 20 Stagionato anche a 20 Vabbè comunque Miglior passbinder L'una era un Una biografia mia E volevo spiegare In cui è avvenuto la Tranquillina la prossima Eh lo facciamo Lo facciamo perché Comunque delle fasi Vabbè così Ora hai sposato Ma sì ma Graziani Alla prossima Oggi Graziani Protti che conosce Smalling Buonasera Sorrentino Regista della grande No No niente